Sì? Buongiorno, non mi disturba affatto, mi dica. Ma che t'ha sembrassata il dito? Posso. Il matrimonio è un legame indissolubile. Sì? L'importante è sopravvivere al viaggio di nozze. Ma che gli stai a fare? Io ti assicuro che ti faccio toccare il cielo con un dito. Claudia Gerini. Oh, famo, strano. Manuela Arcuri. Nascella sì, nascella no. Carlo Verdone. La carina d'ossigeno è buttata in acqua. Ma che vuoi fare la penea? Viaggi di nozze. Domani sera alle 22.40 su Italia 1. Vivi i tuoi sogni con Vodafone Live. Foto, video, mappe e tanti altri servizi. Con Vodafone Live. Il tuo telefonino da spettacolo. Da Vodafone. Ehi. Bevi oran soda, lemon soda, pelmosoda. E scopri sulle etichette come vincere uno dei 25 gommoni con motore Suzuki. Grazie, lemon soda. Videogiochi per PC? The Games Machine ti offre le migliori demo giocabili, le recensioni più ricche, le anteprime più attese. E in regalo Driver, il fantastico gioco d'azione e spettacolari inseguimenti. The Games Machine è in edicola in versione CD o DVD. If you would tell me I'm the only one that you love, Life could be a dream, sweetheart. Ricordatevi che è il tetto in metallo. Peugeot 206 Coupé Cabriolet. Enfant terrible. La risposta dei ricercatori Oral-B per prevenire la carie? Oral-B Cross-Section. Le sue setole incrociate criss-cross staccano e rimuovono più placca dello spazzolino manuale più venduto. Per denti sani e splendenti. Oral-B Cross-Section. Pensa a quando si viveva ancora così. Poi, con un semplice click, la vita è cambiata. www.genialoid.it Oppure telefono al Genial Lloyd. L'evoluzione dell'assicurazione auto. Una volta avevi una pelle sana e bella. Oggi la natura te la ridà con la crema idratante corpo Aveno. Aveno ha scoperto il segreto dell'avena, ha estratto le sue proprietà idratanti e le ha racchiuse in una crema che idrata attivamente la pelle per 24 ore. Aveno. Il segreto della natura per una pelle sana. Che cosa festeggiamo? Abbiamo creato il nostro Active Directory e consolidato ben 70 domini in soli 4 domini. Quattro, eh? Con le Group Policy distribuiamo le nuove applicazioni in un giorno, non in settimane. Ci farà risparmiare 2 milioni di euro all'anno. Windows Server 2003. Fai di più con me. E vai! Un numero considerevole di persone in Italia soffre di disturbi alimentari. Molte sono anorestiche o bulimiche, altre iperfagiche. Si sentono sole, come te. Poche hanno il coraggio di ammetterlo. Hanno paura di pregiudizi, di essere rifiutate dalla famiglia, dagli amici. Contattaci al numero verde 800-546-60 e tu tornerai a volare. Kimbo. A me, mi piace! Non puoi dire una cosa che taggiamo subito. Italia 1! A me, alle isole verdini, non mi fanno più entrare, sennò devono cambiargli il nome. Basta poco per trasformare una vacanza in avventura. Ti propongo un giro di ricognizione, eh! Ci vuole molto di più per trasformare dei classici turisti. Professore? Sì? Al posto nostro, ora, il suo Robinson, cosa farebbe? In rudi esperti di sopravvivenza. Eccola! Selvaggi, domenica alle 21 su Italia 1. Ozie a tutti. Ozie a tutti. Grazie a tutti.